Il mio nome è... Non dovete ricordarlo... Wang Lai Kwangi, età a 15 anni. L'ultimo mese per me è solo prove d'ingresso e l'entrata alle superiori porta giorni davvero eccitanti e preoccupanti. Fino a che non ho incontrato questi due ragazzi davvero speciali. Diavolo, fa male! Stai bene, ritardato? Sono legno... Stupido... Ma... Che meraviglioso! Due... Mastico! Non ci deve essere nessun altro posto bello come questa città. Ciii! Questo mi pare come un picnic. Mastico! Il suo taglio di capelli è stato robinato ma era troppo arrabbiato anche solo per capire che disegni sono! Eeeh! Gioske, sei pazzo? Dove sei andato la tua degnità e d'orgoglio? Facciamo tutti felici! Basta! Non mi sento molto bene... DOLORE! NON ESSERE BENE! Non ho mai sentito la tua voce prima. Chi sei? Chi in faccia sei tu? Chi sono non importa, signor Kujo. Faresti meglio a lasciare questo posto. Lascia tu, Heng! Io sono il fottuto forte! Per cosa lo hai detto? Sei geloso, stupido? Come puoi parlarmi in questo coso? Quando ero un bambino, vidi la monna Lisa dal mio libro di arte scolastica di Garmatica. La prima volta che la vidi, con le mani sulle ginocchia, come posso dirlo? Mi è venuto d'ora! Non puoi scappare ora, tu super ritardaggio! Stupido! Basta con sta roba! Sì! Grazie per la visione!